Un'unica scadenza annuale per il DURC che gli operatori devono presentare criteri specifici per il rilascio delle autorizzazioni di posteggio di durata pluriennale, previsione di posteggi riservati ad antiquari di particolare prestigio sia nazionali che internazionali, percorsi formativi per i commercianti di oggetti di antiquariato. E' questo il contenuto della mozione presentata dal consigliere regionale del PD Lucia De Roberti se approvata in consiglio. La regione toscana si impegna dunque con questo atto a modificare la legge in materia per venire incontro alle esigenze proprio della fiera aretina. La mozione approvata sarà adesso recepita dalla giunta nell'adeguamento normativo che dovrebbe completare il suo iter nella tarda primavera. La fiera antiquaria di Arezzo come le altre fiere dell'antiquariato avranno una dignità propria all'interno del codice del commercio che prima le assoggettava qualunque altro tipo di banco del mercato dalla porchetta ai formaggi e quindi è evidente la stortura che c'era perché l'amministrazione comunale non aveva poi l'elasticità di andare a definire dei criteri di qualità e non solo di quantità rispetto a questo. La fiera avrà una sua dignità saranno semplificate tutta una serie di controlli di quanto rendeva difficile a detta degli operatori lo stare qui da noi. La novità vera è che non ci vorranno più di licenze per partecipare alla fiera cioè un antiquario, un negozio potrà partecipare con una sola licenza. Sì, ci sarà data la possibilità anche ai commercianti in sede fissa quindi a chi ha un negozio con quella licenza di partecipare nel rispetto naturalmente dei bandi dell'assegnazione dei posti e di quello che ci sarà. È una possibilità che la regione vuol dare ai comuni di rendere questa fiera veramente un punto importante di ripartenza perché troppo spesso in Italia lacce e lacciuoli stringono quello che in un momento di difficoltà invece deve essere un bel respiro per la parte alta della città e per tutta questa città. L'assessore Paolo Managliani, l'assessore del commercio allora da qui si parte per un rilancio della fiera. Sì, questo ci aiuta molto in tutto il lavoro che abbiamo già svolto per cui tecnicamente si inserisce nell'ambito di tutte le nostre iniziative nel nostro calendario potremo fare delle operazioni ad hoc intorno e in coordinamento con gli operatori perché sono loro il nostro elemento principale. Collaterali, collezionismo ma anche che posso dire una bellissima mostra tema o anche vendita tema, non so mi vengono in mente gli orologi perché hanno una sua dignità importante, sono bellissimi legati a mostra e legati anche alla vendita.